Buongiorno a tutti. Cominciamo con un sorriso, professor Lopalco. Le faccio vedere questa copertina, è una finta copertina, l'avrà vista, dell'edizione Panini, dedicata ai virologi. La raccolta completa, perché le nuove star siete voi, infettivologi, virologi, lei c'è pure in copertina e quindi sì, non ci saranno più i calciatori da collezionare, ma i virologi. Insomma, al di là degli scherzi, settimanalmente c'è un istituto di ricerca che stila una classifica e Lopalco è tra i più autorevoli esperti che vengono consultati. Allora, professor Lopalco, vuole dire qualcosa, professor Lopalco? No, a proposito delle figurine, c'è la figurina con il nome Lopalco scritto giusto, che è introvabile, glielo posso dire. Ah, ecco, vede? Diventerà una figurina cult nel futuro. Allora, chiedendo...